Operazione andata a buon fine, quella della Polizia di Stato della Questura di Udine effettuata nella mattinata di martedì 9 luglio e denominato Operazione Gaivlis, con cui sono state tratti in arresto due persone, cittadini georgiani, finiti ai domiciliari ed è stato anche sequestrato preventivamente un immobile di proprietà di una cittadina ucraina. I tre soggetti sono gravemente indiziati di concorso nella produzione di documenti di identità comunitari falsi e favoreggiamento alla permanenza sul territorio nazionale in stato di clandestinità. L'attività investigativa era stata avviata nel settembre del 2023 e tutto era partito da alcune segnalazioni ricevuti dagli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate in cui si sottolineava un considerevole numero di donne presso i loro uffici, apparentemente georgiane, che però si presentavano come cittadine comunitarie con documenti di identità validi di paesi come Slovacchia, Lettonia e Polonia. Questi stessi documenti permettevano alle donne di poter accedere al mondo del lavoro nel circuito dell'Agenzia delle Badanti e di godere di benefici giuridici, fiscali e sanitari, aggirando le norme che regolano l'ingresso e la permanenza di cittadini extracomunitari in virtù di quello che a tutti gli effetti era un vero e proprio lascia passare. I due cittadini georgiani e la donna ucraina accoglievano, aiutavano e sostenevano le donne straniere fornendole documenti falsi per una cifra che si aggirava tra i 300 e i 1000 euro ciascuno. Nel febbraio scorso cinque donne georgiane erano state trovate in possesso di tali documenti e alcune di esse nel frattempo risultavano addirittura già censite all'Inps e impiegate con regolare contratto in qualità di badanti. Altre cinque venivano deferite in stato di libertà per il medesimo reato. L'operazione è riuscita a risalire anche alla base all'inizio di tutto, ovvero a coloro che procuravano effettivamente i documenti falsi che poi venivano dirottati alle badanti. Si trattava di quattro persone che non solo per la provincia di Udine erano in generale riferimento per le donne straniere, tanto da offrire loro anche un servizio di ospitalità presso alcune abitazioni, alimentando un'attività illecita a scopro di lucro con la riscossione quotidiana di consistenti somme di denaro. Nel corso del tempo questi soggetti erano riusciti infatti ad acquistare due appartamenti nel centro di Udine per farvi alloggiare fino a 12 persone contemporaneamente. Uno dei due appartamenti, situato in via Roma, è stato sequestrato preventivamente e durante la perquisizione sono stati trovati anche 12.000 euro e diversi monili in oro ritenuti provento dell'illecita attività.